Buonasera ai nostri telespettatori, siamo alla chiusura della campagna elettorale per le amministrative, si vota domenica dalle 7 alle 23 anche per le europee ma in questo caso il territorio di confronto politico anche in questa tribuna elettorale sarà quello delle comunali, in particolare il comune di Pescara, siamo all'ultima tribuna elettorale tra gli otto candidati sindaci per la città di Pescara che hanno tutti recepito il nostro invito di essere presenti nei nostri studi, per questo li ringrazio davvero perché so l'ultima giornata di campagna elettorale è molto impegnativa, incontri, comizi, insomma le ultime opportunità di prima della mezzanotte convincere gli indecisi e lo faranno anche nei nostri studi rispondendo alle mie domande in una serie di risposte sorteggiate nell'ordine prima della trasmissione appunto secondo le regole della Bar Condicio con un tempo fissato nei tre minuti. Li conoscete ormai tutti i nostri candidati e dunque iniziamo subito con la prima domanda in maniera che entriamo nel cuore del confronto. Allora Gianluca Baldini che è candidato del polo sovranista e con lui introduco la domanda che poi sarà generale per tutti. Questa è stata una settimana in cui il confronto tra di voi si è acceso molto sul tema della sicurezza e delle periferie. C'è stata anche la visita del Ministro della Difesa che ha parlato di esercito in alcuni quartieri di Pescara. Qual è il vostro approccio rispetto al tema della sicurezza urbana sia per quanto riguarda le periferie sia per quanto riguarda il centro ma in particolare per quel che riguarda i quartieri più difficili? Voglio delle risposte chiare che siano anche esemplificative del diverso approccio culturale oltre che politico a questo tema della sicurezza. Baldini. Allora buonasera innanzitutto direttore buonasera ai telespettatori. Io sinceramente ho un approccio un po' differente al trattamento di questi problemi delle periferie che è più coinvolgente a mio avviso e più aderente a quella che è la visione che ci hanno dato i cittadini del quartiere di Rancitalli Villa del Fuoco. Francesca Di Credico, quella ragazza che si è fatta promotrice del comitato cittadino, ci ha presentato una serie di proposte che fra l'altro per la maggior parte coincidevano con il nostro programma e quelle che non avevamo considerato le abbiamo accolte in pieno. Innanzitutto si dovrebbe partire dalla considerazione che la repressione non basta perché reprimere vuol dire affrontare il problema puntualmente ma poi si ripresenta sempre. Che cosa vuol dire ridare vita invece al quartiere? Vuol dire innanzitutto scommettere sul decentramento dei servizi considerando che queste periferie sono state abbandonate da decenni e quindi in un certo senso vivono le sofferenze di tutti quei quartieri che non hanno più una vita sociale. Per ricostituire una vita sociale è necessario decentrare i servizi e quindi noi abbiamo proposto delle misure shock tipo quella di mettere una sede universitaria e quella di mettere una stazione di polizia municipale che ospitasse il nucleo di sicurezza urbana e poi fare delle politiche di defiscalizzazione in maniera tale da consentire a chi vuole iniziare un'intrapresa economica in quelle zone e di avere dei trattamenti fiscali particolari che gli consentano di rendere quel tipo di attività più redditizia. Queste già sarebbero delle misure molto importanti ma un'altra cosa che noi abbiamo considerato essenziale è quella di scommettere sul decentramento anche dei grandi eventi perché a mio avviso fare un grande evento l'anno nelle zone periferiche diventa anche una scusa per investire anche nel rinnovo, nella rigenerazione di quegli spazi che sono stati oggetto di abbandono e per me, io dico sempre, credo molto nella teoria delle finestre rotte, quando una zona è abbandonata è sporca, i palazzi sono fatiscenti, le strade sono ammalorate, c'è una tendenza a raccogliere le attività criminose e le persone che vogliono delinquere. Invece dare bellezza, restituire decoro a quegli spazi investendo proprio nel rinnovo dei palazzi pubblici, dei palazzi privati, delle strade, del verde pubblico consentirebbe di far vivere gli spazi, diciamo agevolare la socialità e far vivere di più gli spazi pubblici e quindi in un certo senso allontanare naturalmente chi delinque, quindi noi crediamo in questo, io dico sempre la sicurezza non è l'uomo con la pistola, mandare l'esercito a Rancitelli per me non è la soluzione, cioè militarizzare una zona non è mai stata una soluzione, investire per ridare vita a quella zona e per ridare decoro a quegli spazi è la vera soluzione. Mirko Iacomelli, lista Casa Pound. Sì, il problema della periferia in pratica è sotto gli occhi di tutti ormai, è palese che le amministrazioni che si sono cedute hanno creato quello che adesso tutti possono vedere, non è che stupisce se si dice la periferia è abbandonata, però adesso solo ci si ricorda di andare in quei quartieri a chiedere i voti, cosa che comunque si fa sistematicamente ogni campagna elettorale. Non è che ci vuole tanto a capire che la periferia di Pescara, Rancitelli, Sandonato, Zanni sono periferie con un degrado arrivati a un punto tale veramente insostenibile. Ci basti vedere vicino all'imbocco dell'astro attrezzato quella zona lì dove c'è l'Eurospin e ci rendiamo subito conto di che cos'è la periferia. Per non parlare lì dietro quello che accade al ferro di cavallo, quello che accade in tutte queste zone. Io ci vivo in questa zona, conosco la realtà di questa zona e mi rendo conto che in tutte le periferie vivono questo contesto sociale veramente scandaloso. Quindi le cose da fare sono semplici, non sono difficilissime, non servono creare dei parchetti che poi si trasformeranno tranquillamente in posti di spaccio, basta con questi parchetti che non servono niente. Servono ordinanze, serve che il sindaco prenda di petto la situazione, il futuro sindaco deve prendere di petto la situazione e fare delle ordinanze, sgomberare tutte le persone che comunque delinguono, che spacciano e riconsegnare possibilmente tramite l'Ater gli appartamenti con una preferenza agli italiani. Questo è quello che proponiamo noi in primis. Successivamente bisogna vedere anche un po' tutto il funzionamento. Non serve che poi ci si presenta il ministro in campagna elettorale a dire portiamo l'esercito, portiamo la Nato, veniamo con i carri armati. Questa è una cosa che non serve assolutamente a nulla, perché non serve l'esercito per risolvere il problema. Servono delle ordinanze, serve la volontà di un'amministrazione. Non penso che 5 Stelle a Roma faccia delle cose spettacolari, soprattutto quando dà la casa a Roma e lascia italiani che stanno in graduatoria da 15 anni ad aspettare la casa popolare. Quindi la situazione è questa. Tutti parlano di questa situazione degradante, scusami, di questa situazione che sta al collasso, però poi nel momento in cui vengono eletti i sindaci e fanno la loro bella aggiunta, tutti si dimenticano delle periferie. Questo è un dato di fatto. Gianni Teodoro, lista Teodoro. Buonasera direttore, credo che ancora una volta, adesso poi dopo di me ci saranno altri, vedremo il teatrino della politica, cari concittadini, quelli che oggi vengono qui a parlarvi di periferie, ma di periferie forse non sanno nemmeno le strade come arrivarci. Questa è la realtà. C'è un modello, c'è un modello già sperimentato, già applicato, che è il modello T, cioè il modello Teodoro. Io negli ultimi vent'anni ho dimostrato che i quartieri periferici possono cambiare la loro veste, proprio naturalmente, senza forzature e senza iniziative straordinarie. E lo abbiamo fatto attraverso la modifica del piano regolatore, cambiando gli strumenti urbanistici, lo abbiamo fatto migliorando le infrastrutture esistenti e portando nuove infrastrutture in quei territori e lo abbiamo fatto soprattutto con la scuola, con le parrocchie, col mondo dell'associazionismo. Abbiamo cambiato il modus operandi delle persone, il loro pensiero. Hanno capito l'importanza di curare prima casa propria, ma insieme alla casa propria di curare anche la casa degli altri. Quindi di comportarsi nel modo migliore in quei quartieri dove loro vivevano gran parte del loro tempo. Detto questo, ed è chiaro che non posso sottacere come può un ministro della difesa di un paese, di un grande paese come l'Italia, perdere tempo per un'intera giornata attraversando alcune periferie della nostra città, dicendo e invocando come se fosse necessario la presenza dell'esercito che io smentisco categoricamente con gli atti ufficiali che sono depositati presso il Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica e inviati al Ministero dell'Interno perché questo problema è stato posto più di una volta e più di una volta il Comitato si è riunito per definire questi argomenti. Bene, le forze dell'Ordine hanno dimostrato che non c'è nessun pericolo e non vi sono neanche una delle condizioni per portare l'esercito a Pescara. Anzi, cari concittadini, le forze dell'Ordine che mi sento di ringraziare, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, il Gruppo Giona, lavorano, si combattono come leoni ogni giorno, sono presenti sul territorio e vi posso garantire che hanno la città sotto controllo. Chiunque delinque sa e sappiatelo prima di ogni altra cosa, le informazioni sono puntuali e precise, c'è una rete di lavoro da parte delle forze dell'Ordine che è straordinaria. Noi viviamo in una città serena, in una città tranquilla, noi dobbiamo soltanto continuare per migliorare definitivamente le periferie, portare un altro modello, un altro modello T, cioè la città policentrica, quella di cui ho sempre parlato, quella di cui sono innamorato, portando ingenti risorse comunali, regionali, nazionali ed europee per cambiare il volto delle periferie e per rendere questa città policentrica, non più monocentrica con solo piazza Salotto, ma con più centri dove vi sono, dove vi è la movita, dove vi sono luoghi di aggregazione, dove vi sono le attività commerciali, dove vi è la vita. E io questo lo farò, cari concittadini, se mi voterete e se sarò sindaco di Pescara. Marinella Sclocco, candidata della coalizione civica e di centrosinistra. Sì, sono nata in periferia, Villa del Fuoco, lì c'è ancora mia madre, c'è parte della mia famiglia, ci sono quasi tutti i miei amici, conosco perfettamente quasi tutte le famiglie di quella zona, ma chiaramente di molte zone di periferia della città. Non sono mai stata consigliera comunale, mai candidata al comune, ma da candidato sindaco ho fatto subito una cosa. Ho inserito nelle mie liste molti candidati, provenienti da quella periferia e dalle periferie cittadine. In particolare sei candidati della Madonna del Fuoco, perché credo che sia importante avere persone che abitano lì, che conoscono perfettamente i problemi e che possano in qualche modo essere il portavoce di quelle zone. Conosco le famiglie, sono famiglie oneste, sono famiglie che lavorano, sono famiglie che con grande difficoltà portano avanti la crescita dei figli, che hanno bisogno di scuole, hanno bisogno di servizi, hanno bisogno di strade manutenute e tenute bene, che hanno bisogno di riqualificazione di zone abbandonate, che hanno bisogno di far sì che ci sia un ambiente accogliente, un ambiente pulito, un ambiente illuminato, hanno bisogno di asili nido, hanno bisogno di questo e non di altro. Certo c'è un problema di sicurezza, questo è vero, ma la sicurezza si ottiene solamente se si lavora, se si fanno delle opere. Il sindaco è chiamato ad amministrare e non a militarizzare. La cosa che è successa qualche giorno fa con il ministro della difesa, io la reputo una cosa culturalmente e politicamente grave, pericolosa, perché se ci accorgessimo che i delinquenti sono in tutta la città, che cosa faremmo? Lasciamo da parte le opere e militarizziamo la città, facciamo che Pescara diventi un bunker? Io credo in Pescara come una città viva, una città di servizi, una città che ascolta i cittadini. Guardate, qualche giorno fa, qualche sera fa, tutti i candidati sindaci sono andati a Villa del Fuoco, hanno fatto un confronto. Io ho stampato qui le domande che ci pongono. Nessuna, una su 20 parla di videosorveglianza. Chiedono tutti altro. Allora, se uno non c'è nato in periferia e non le conosce, almeno ascolti le persone, legga le cose, come ce l'ho io ce l'hanno tutti. Vogliono asili, asili nido, servizi, infrastrutture. Poi mi deve spiegare la ministra come fa a dire che porterà i militari se lo stesso governo ha tagliato alle forze armate 500 milioni di euro. Quindi è una promessa assolutamente che non si farà, assolutamente una promessa elettorale. C'è stato un inganno, giocato sulla buona fede e anche sull'insicurezza che a volte hanno i cittadini. Ma non si ingannano i cittadini. Inoltre, 5 Stelle l'anno scorso, perché ieri è successo di tutto in quella zona, e quindi mi hanno riportato tante cose, sono molto preoccupati di questa iniziativa di militarizzazione di una parte della città. Sono i 5 Stelle stessi che nel 2017 mettono in dubbio l'efficacia del progetto Strade Sicure, perché quel progetto ha portato al suicidio almeno un soldato all'anno, perché i ragazzi che vengono messi lì a fare il piantone, e io ho da qualche parte la risoluzione dei 5 Stelle, che chiede al Parlamento di non fare più cose del genere nelle città, perché portano all'esaurimento e quindi purtroppo al suicidio molti militari. Allora, Erika Alessandrighi ha proprio accompagnato la Ministra Trenta in questo tour, se ne è parlato anche negli interventi precedenti, cose da replicare, ma anche cose da, insomma, in qualche modo integrare. Assolutamente sì, perché lo stato attuale delle nostre periferie è assolutamente colpa della destra e della sinistra che le hanno abbandonate. È inutile venire in televisione a fare proclami e a giudicare gli altri, dovrebbero aver dimostrato con i fatti quello che sono capaci di fare. Invece vengono in tv e dicono che non c'è bisogno di aiuto, che non c'è bisogno di altre forze dell'ordine, che tutto va bene così, che si piantano due fiorellini, che si mettono due asili e le questioni delle periferie sono risolte. Non è così. I cittadini hanno paura a Rancitelli, nel ferro di cavallo, i cittadini hanno paura di scendere a parlare con le persone, hanno paura di farsi vedere, hanno paura di partecipare alle assemblee del comitato cittadino, perché lì c'è violenza, c'è delinquenza, c'è occupazione abusiva, c'è spaccio di droga, c'è racket. Dobbiamo prendere delle misure che mettano fine a tutto questo. Ed è evidente che semplicemente con le forze del comune non c'è possibilità di farcela. Esiste questo progetto che è Strade Sicure, che si vuole far passare come la militarizzazione, addirittura abbiamo sentito i carri armati. No, si tratta semplicemente di persone in divisa, che si rendono disponibili ad essere fisicamente presenti in un luogo e a garantire una presenza costante di sicurezza, perché essere sicuri è anche una percezione della presenza di un militare, di una persona in divisa, di qualcuno che ti può aiutare. Perché la presenza costante con i vigili urbani o con le forze di polizia del nostro comune non c'è, perché purtroppo intervengono soltanto quando gli atti vandalici o quello che dovrebbe essere prevenuto, invece è già accaduto. Quindi c'è bisogno di essere presenti in maniera costante, ma quello che ha detto la Ministra all'inizio è stato che comunque non c'è solo questo da fare, perché l'integrazione è quello che può mettere a disposizione lo Stato, che ha a disposizione 7500 membri, persone, che possono essere dislocate sul territorio nazionale e rendersi disponibili quindi ad essere presenza di percezione di sicurezza e di intervento, ma poi c'è bisogno anche di altro, cioè l'amministrazione locale deve mettere in campo azioni di formazione, azioni che riguardino il sociale, luoghi di aggregazione, la musica, lo sport, lo sport nei piccoli centri, soprattutto quello dilettantistico. C'è bisogno di unire le cose, non soltanto con la creazione degli asili nido si riesce a aggiustare ciò che non va, il grande disagio delle periferie. Purtroppo si fanno soltanto tanti proclami e poi quando è ora di riuscire ad intervenire, purtroppo destra e sinistra dovrebbero ammettere il loro farlimento e come sempre non sono capaci di farlo, perché oggi lo Stato attuale dipende dalla loro incapacità di aver preso di petto la situazione e di essersi messi definitivamente a cercare di risolverla. E' ora di dire basta a questo Stato di cose, perché c'è bisogno di qualcuno che ci metta la faccia. Il ministro della faccia ce l'ha messa, è venuta fin qui, è salita nel palazzo del ferro di cavallo, ha preso la situazione di petto, tornerà a verificare e questa è semplicemente una correttezza ed è il simbolo di qualcuno che prende le cose sul serio e dire che chi viene in periferia è un ministro che perde tempo, penso che abbia racchiuso in sé la gravità del pensiero delle altre forze politiche. Grazie Carlo Costantini che guida una coalizione di tre liste civiche. A lei Carlo. Ma io anzitutto vorrei fare una premessa. I delinquenti sono in circolazione ma dovrebbero stare in carcere. Il vero problema è che il nostro ordinamento giudiziale non è sufficientemente pesante e consente a persone che hanno già commesso reati, reati che destano allarme sociali, scippi, furti in abitazione, rapine, di essere rimessi in libertà troppo rapidamente. È pressoché impossibile individuare una persona che commette uno di questi reati che non lo abbia già commesso in precedenza. Quindi è inevitabile che fino a quando il nostro ordinamento giudiziario consentirà a queste persone magari di essere prese, di passare qualche giorno in galera, ma poi di tornare in libertà tranquillamente, di ricominciare a commettere reati, i problemi non li risolveremo mai. Esiste una vera e propria emergenza sicurezza in alcuni pezzi della città che non sono soltanto le periferie. Attenzione. Guai a circoscrivere l'emergenza sicurezza soltanto ad alcuni quartieri della città. Il centro della città è pieno di episodi che ci raccontano di rapine, di scippi, di furti in abitazione. L'emergenza sicurezza è un'emergenza globale che deve in primo luogo essere risolta con misure repressive. Io all'interno delle misure repressive considero anche possibile, eventuale, la necessità di fare intervenire l'esercito. Chiaramente non come primo obiettivo e come primo intervento, però qualora le forze dell'ordine, la pulizia municipale che fa tutto il possibile, la pulizia municipale svolge la propria attività con una energia e con una dedizione incredibile, spesso anche al di là degli orari di lavoro senza percepire remunerazione per lo straordinario. Non possiamo chiedere di più alle forze dell'ordine pescarese. Quindi io in linea di principio non escludo la necessità che a un certo momento possa rendersi necessario l'intervento dell'esercito attraverso l'operazione strade sicure. Dicevo che esistono oggi le misure per intervenire preventivamente e anche in modo repressivo. Si può attivare il Comitato per la Sicurezza e per l'Ordine Pubblico per determinare l'allontanamento delle persone già denunciate per reati contro la persona, per attività di spaccio e per reati che in qualche modo interessano il centro e tutta la nostra città. Il sindaco deve adottare delle ordinanze per evitare attività tipo di parcheggio abusivo per le quali molto spesso vengono utilizzati bambini e disabili. Sono attività vergognose per le quali è necessario intervenire. Tutto quello che investe l'attività repressiva tipica. Ovviamente la repressione non basta. Immediatamente dopo, contestualmente ad attività repressive, bisogna intervenire con misure che in qualche modo, in prospettiva, possono ricostruire le condizioni di una comunità. Perché è vero che in questi dieci anni, sarebbe generoso dire solo negli ultimi dieci anni, in questi dieci anni interi quartieri periferici sono stati completamente abbandonati. Le istituzioni sono andate via, non ci sono più spazi pubblici, non ci sono più luoghi di aggregazione, ci sono poche scuole, ma molto poco frequentate, non ci sono spazi verdi attrezzati, manca tutto quello che consente a una comunità di sentirsi tale, manca tutto quello che consente a un cittadino di sentirsi cittadino. E questo è quello che dovrà fare la prossima amministrazione. Io penso poi ad una misura simbolica, ad un primo intervento, l'ho detto, le istituzioni comunali devono dimostrare fisicamente la propria voglia e il proprio desiderio di riappropriarsi del territorio e io lo farò aprendo un ufficio del sindaco. Il sindaco sarà presente nei quartieri periferici più a rischio per dimostrare a tutti la volontà del comune di riappropriarsi di tutto il territorio. Stefano Civitarese, sostenuto dalla lista Coalizione Civica per Pescara. Sì, grazie. Secondo noi questa questione della percezione dell'insicurezza è agitata ad arte strumentalmente. I dati ci dicono che nonostante ci siano ovviamente reati, crimini, come ci sono in tutte le città di una certa dimensione, non sono assolutamente allarmanti, si soffia sul fuoco della sicurezza e della insicurezza che indubbiamente è un problema perché evidentemente se è percepita è un problema che va affrontato ma che è un problema che va affrontato certamente ricorrendo dove è necessario alla cosiddetta appunto all'intervento per ripristinare la legalità ma queste sono misure assolutamente insufficienti e che non toccano il problema di fondo. Il problema di fondo è quello di ricostruire invece un elemento di aggregazione di vita sociale dignitosa perché secondo noi il problema è proprio la dignità dell'uomo, i diritti umani, questo è al centro della stessa ragion d'essere di coalizione civica e quindi pensando alle periferie e ai quartieri si tratta di intervenire mediante misure che ricostruiscano effettivamente momenti di integrazione tanto tra le persone che ci vivono da sempre quanto con le persone che sono arrivate e bisogna fare progetti di integrazione che riportino la qualità della vita e la qualità della socialità attraverso per esempio le scuole aperte il pomeriggio attraverso una dimensione della ricostruzione degli spazi pubblici mediante quello che noi per esempio nel nostro programma chiamiamo sicurezza urbana a partire del progetto si può come ha detto anche di recente il nostro assessore Inpectore Roberto Mascarucci in un intervento specifico proprio su questo si può fare progettazione che aumenti la sicurezza e la percezione della sicurezza e su questo dobbiamo puntare noi abbiamo anche detto in modo molto chiaro che bisogna anche intervenire redistribuendo la ricchezza la ricchezza che si potrà produrre per esempio attraverso la riqualificazione urbana che per ragione di mercato avviene soprattutto nelle aree centrali dove quindi si prendono contributi di costruzione che le imprese giustamente pagano perché poi debbano essere reinvestite per infrastrutturare il territorio per esempio appunto con spazi pubblici curati manutenuti con elementi di cittadinanza attiva devono essere redistribuiti attraverso una scelta che noi abbiamo detto molto chiaramente fin dall'inizio che è strategica come è stato fatto a Milano dove effettivamente si sta risolvendo il problema delle periferie sono ben altri problemi di una città come Milano investendo il 50% di tutti i contributi concessori di costruzione che il Comune acquisisce proprio nelle periferie ma investendoli in modo naturalmente intelligente pensando cioè a ricostruire il tessuto sociale io in tutti gli esempi che conosco dai miei studi dai viaggi che ho fatto da quello che ho visto altrove non ho mai visto risolto il problema della sicurezza soprattutto nei quartieri periferici mediante interventi repressivi occorrono invece interventi di integrazione di miglioramento della qualità della vita grazie Civitarese Carlo Masci sostenuto dalle forze politiche del centrodestra anche dalle liste civiche innanzitutto un caro saluto a lei direttore e telespettatori e ai miei colleghi candidati a sindaco la domanda è sicurezza nelle periferie un sindaco su questo argomento deve essere concreto diretto deciso e determinato da sindaco mi muoverò su tre livelli il livello della prevenzione il livello del controllo il livello della repressione per quanto riguarda la prevenzione io ho inserito nel mio programma la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali per quanto riguarda quelle materiali un parco in più o un campo sportivo in più in ogni quartiere un centro di aggregazione in più una piazza in più perché bisogna riconquistare gli spazi pubblici i cittadini devono tornare negli spazi in piazza devono aggregarsi devono ritrovare la voglia e la volontà di vivere in quei quartieri e devono soprattutto ritrovare un'identità che in questi anni è stata perduta per quanto riguarda le infrastrutture immateriali noi dovremo utilizzare quel volontariato sociale sportivo culturale che è l'effervescenza del nostro territorio della nostra città per fare in modo di costruire progetti concreti per la collettività per quella comunità che soffre che oggi manifesta un disagio sociale molto evidente e che noi dobbiamo eliminare quindi attività sociali culturali sportive nei quartieri a rischio perché così si ricostruisce il senso di comunità e di collettività poi il livello del controllo il controllo attraverso sistemi intelligenti telecamere intelligenti non come quelle che sono state oggi predisposte su Pescara ma telecamere che diano in tempo reale le notizie degli accadimenti ad un unico hub che ovviamente mette in moto un sistema di controllo immediato con l'intervento dei vigili urbani perché solo così si può intervenire concretamente e solo così si dà la sicurezza di una presenza del comune e una presenza dello Stato e poi il vigile di prossimità che credo sia un elemento molto importante perché ci deve essere la presenza costante dei vigili sul territorio poi io sfido anche il Ministro Trenta a me fa piacere che sia venuto il Ministro in questo periodo a Pescara siamo sotto elezioni però l'importante è che torni anche dopo le elezioni io gli scriverò immediatamente perché così chiederò che le forze dell'ordine ci siano sul nostro territorio perché meglio che ci siano perché oggi Pescara ha bisogno di maggior controllo e di maggior efficacia che ha maggior presenza dello Stato poi per quanto riguarda la repressione il DASPO antibalordi è applicato immediatamente e l'altro intervento immediato sarà lo sfratto delle persone che oggi occupano abusivamente le case di dirizia residenziale pubblica perché questo grido di allarme è arrivato costantemente dai quartieri a rischio quindi noi dobbiamo intervenire su chi spaccia su chi delinque per dare la possibilità ai cittadini per bene di vivere una vita dignitosa in quei quartieri grazie Masci grazie a tutti voi per la durata degli interventi siamo entrati perfettamente nella prima parte della nostra trasmissione la seconda tra pochissimo dopo la pubblicità con un altro tema che sottocorro al confronto tra i vostri programmi a tra poco bene siamo tornati in studio per la seconda parte dell'ultimo confronto elettorale tra gli otto candidati sindaci di Pescara uno di loro sarà eletto già con il soffraggio di domenica scorsa o con il turno di ballottaggio 15 giorni più tardi uno di loro sarà il sindaco e nel leggere i programmi elettorali ma non soltanto dei sindaci di Pescara e non soltanto in questa tornata elettorale c'è un punto che viene sempre inserito ma un punto su cui non c'è mai un dettaglio specifico sulle proposte concrete vale a dire il sindaco vuole favorire la partecipazione dei cittadini la trasparenza della sua attività e quindi stare in contatto con i cittadini durante tutto il suo mandato ecco allora io a voi vi chiedo di essere meno generici e di dirci una cosa che farete di nuovo rispetto a quanto è stato fatto finora per poter stabilire un rapporto diretto con i cittadini e favorirne la partecipazione alle scelte del comune nel prossimo ai prossimi anni quanti saranno prima che insomma nasca la nuova Pescara Baldini allora innanzitutto io voglio partire da una proposta che abbiamo fatto che io ho detto che sarebbe stata la prima cosa che avrei fatto da sindaco se fosse stato eletto sindaco di Pescara e sarebbe il consiglio all'aperto mi sarebbe piaciuto farlo proprio a Rancitelli la nostra proposta era quella di fare dei consigli comunali quindi in piazza nelle varie nelle varie zone ovviamente nei periodi dell'anno in cui il tempo consente di fare ciò per far partecipare diciamo per agevolare la partecipazione dei cittadini chiaramente questa è un'iniziativa insufficiente a garantire che i cittadini partecipino ma già diciamo a mio avviso ottimale per dare la sensazione proprio ai cittadini di quanto ci si voglia avvicinare e di quanto li si voglia far partecipare realmente alle decisioni poi sarebbe assolutamente necessario ripristinare una forma di partecipazione istituzionalizzata non ci sono più i consigli di quartiere noi vorremmo fare qualcosa di simile perché a nostro avviso le istituzioni in questi anni sono state molto lontano dai cittadini io ho detto sempre che se fosse stato eletto sindaco il mio ufficio sarebbe stato la strada perché ho notato che almeno nell'ultimo decennio una cosa che è stata una considerazione che è stata fatta da molti cittadini è che gli ultimi due sindaci non si sono mai visti questa è una cosa importante anche perché il sindaco deve vivere la città nella sua realtà e non può diciamo contare soltanto sulla mediazione sull'intermediazione degli altri diciamo della giunta dei suoi assessori che magari sono in un certo senso agevolati nel voler dare una rappresentazione diversa della realtà poi un'altra considerazione che io ho fatto su ciò è riferita alla critica che ho sempre mosso nei confronti del progetto della grande pescara quello a mio avviso è un problema riferito anche alla periferizzazione della città cioè la fusione dei comuni distruggendo due consigli comunali allontanerebbe ancora di più i cittadini dalle istituzioni mi è stato obiettato che si realizzerebbero i municipi che però è stato dimostrato nelle esperienze precedenti che costano di più i comuni quindi io vorrei capire come sia possibile diciamo conciliare il risparmio della spesa con l'aumento dei costi quindi io ritengo essenziale questo in definitiva cioè avvicinarsi ai cittadini dando più occasioni di partecipazione possibile poi chiaramente noi da questo punto di vista guardiamo con positività anche gli aspetti legati alla partecipazione elettronica in questo i 5 stelle devo ammettere che hanno fatto scuola no? cioè quindi dotare il sito del comune di Pescara che a mio avviso è veramente obsoleto degli strumenti atti ad agevolare la partecipazione di chi riesce ad utilizzare questo tipo di strumenti quindi con tutte le possibilità di interazione telematica penso di aver detto tutto bene Iacomelli Noi pensiamo che un sintoco e una giunta devono stare a contatto con i propri cittadini è chiaro se guardiamo gli ultimi sindaci sicuramente non è che sono stati poi così vicini alla cittadinanza perché rinchiudersi dentro degli uffici e non stare a contatto anche nelle periferie dal nostro punto è completamente errato è chiaro che il cittadino deve essere partecipe di un'amministrazione però è anche vero che spesso e volentieri le amministrazioni scaricano tutto quello che dovrebbero fare verso altri quindi verso privati verso i cittadini e ora vediamo che dicono e spesso non prendono di petto anche le questioni più spinose ecco bisogna avere anche il coraggio come giusto che sia perché se si fa politica bisogna avere il coraggio di affrontare certe tematiche qualsiasi tematica e prendere dei problemi e risolverli se ci si riesce se poi si fallisce automaticamente la prossima volta l'elettore non voterà più il cittadino non voterà più quel partito o quel sindaco quindi è giusto coinvolgere i cittadini però è anche vero che comunque l'amministrazione deve avere il coraggio di fare delle scelte questo è appunto uno per quanto riguarda invece il discorso dei municipi e quindi dei quartieri i quartieri non ci sono a Pescara perché sono stati tolti ma perché la legge prevedeva che comunque i quartieri sotto città inferiori ai 250.000 abitanti non possono starci quindi non hanno municipi la municipalità probabilmente si potrà fare con la grande Pescara e a quel punto si ricreeranno i municipi o meglio ancora i quartieri in più punti di Pescara e quello potrebbe essere un qualcosa di importante perché la gente e le persone potranno andare direttamente e confrontarsi oppure portare delle problematiche direttamente in questi quartieri in questi municipi bisognerà vedere e aspettare questa grande Pescara prima di di questo non credo che si possano fare i quartieri come una volta io sono stato consigliere di quartiere ma non credo proprio che si possano fare i quartieri come una volta anche perché i quartieri di una volta non avevano portafoglio in sostanza perché non decidevano niente non facevano niente si stavano ad ascoltare la gente però poi le problematiche sistematicamente come venivano portate in consiglio di quartiere come andavano in consiglio comunale si perdevano nel nulla quindi ecco il collegamento che si deve avere deve essere un collegamento diretto il collegamento diretto si può fare con la grande Pescara si può fare con un discorso di municipi non si può fare adesso in questo contesto perché non ci sono le possibilità di farlo grazie grazie Teodoro qual è la mossa che lei farebbe da sindaco per dare un segnale sulla partecipazione dei cittadini il primo punto da scrivere nell'agenda del nuovo sindaco e in questo caso se sarò sindaco è il bilancio partecipato con una collaborazione diretta da parte assolutamente diretta e assolutamente anche di qualità da parte dei cittadini per la costruzione del nuovo bilancio comunale provo a immaginare in queste riunioni partecipate dove la gente e il cittadino può esprimersi in libertà e condividere i progetti un argomento per tutti la città policentrica nel momento in cui andremo a discutere di questi argomenti noi abbiamo non solo un valore nel fatto che la città che cambia significa una città che si migliora anche esteriormente nella sua bellezza ma anche nella nuova costruzione ad esempio nelle casse comunali entrano denari come la Bucalossi e allora anche qui laddove quel territorio si presta alle nuove costruzioni quindi al rinnovamento delle periferie questa entrata che il comune ha lo stabilisce insieme ai cittadini come impegnare questa entrata nuova che si chiama appunto l'entrata per la Bucalossi detto questo questo è un elemento essenziale ma la Bucalossi può essere anche utilizzata non soltanto per dei servizi in loco per migliorare la qualità urbana perché si creerà quel vuoto urbano dove intorno a questi nuovi edifici nasceranno asili nido nasceranno parchi attrezzati per bambini percorsi ciclabili insomma nascerà una nuova città ma anche possono essere impegnati per coprire le spese ad esempio della Polizia Municipale che spesso interviene per bloccare e tanti casi sono stati già fatti per coloro che vogliono occupare abusivamente gli appartamenti di proprietà dell'Ater con una sorta di ragionamento coordinato con l'Ater la Polizia Municipale mette a disposizione i propri uomini e quindi la Municipalità i propri costi perché comunque la Polizia Municipale è a carico della Municipalità della Dico bene della Municipalità detto questo con questo voglio sottolineare quanto sia importante ora arrivare a capire quali sono gli elementi aggiuntivi da poter inserire all'interno del bilancio partecipato chiaramente il bilancio partecipato tiene conto della vita quotidiana della città cioè è il bilancio della città dove tutto si muove all'interno di queste voci di bilancio lì dentro noi potremmo trovare soluzioni alternative di ogni genere di ogni tipo non solo per favorire i servizi ma anche per innovare voglio dire quelle realtà già esistenti che hanno necessità di miglioramento di adeguamento rispetto ai tempi le questioni sull'online voglio dire le app i sistemi di informazione sono possibilmente si possono ed è possibilmente percorribile il progetto crearlo attraverso appunto queste forme di partecipazione dove il cittadino ci chiede vogliamo che ci sia data questa opportunità che da casa possiamo stamparci tranquillamente con un semplice app il certificato di residenza grazie Teodoro non è suonato il cicalino ma insomma siamo perfettamente in linea con il tempo che aveva a disposizione Marinella Sclocco si io mi candido per far sì che ci sia la pace ritorni la pace tra i cittadini e il sindaco tra i cittadini e chi amministra il comune questa mancanza di relazione ha fatto sì che i cittadini si sentissero soli e si sentissero soli negli ultimi anni hanno fallito tutti in questo ha fallito il centrodestra ha fallito il centrosinistra e ha fallito anche chi si era proposto in maniera diversa pensando di far sì che il rapporto con i cittadini potesse esaurirsi dietro un computer tramite piattaforme dal nome francese o in generale tramite la rete è stato anzi un inasprimento delle relazioni quindi hanno fallito tutti i cittadini si sentono soli si sentono abbandonati io mi candido per questo per far sì che ricominci un rapporto con la gente che ricominci l'ascolto ma non solo io non parlo solo di partecipazione la partecipazione significa ascoltare e tenersi informati tenerli informati io parlo di co-costruzione che è una cosa diversa una cosa in più è una giunta io chiedo ai cittadini di lavorare insieme a me affinché possano essere fieri di essere pescaresi affinché insieme a me si rimbocchino le maniche e sentano pescara come la loro casa e in qualche modo si rendano insieme a me corresponsabili della crescita della propria città ce ne sono tantissimi di strumenti affinché questo possa succedere sicuramente ripristineremo i comitati di quartiere che saranno diversi dai vecchi consigli di quartiere lì ci saranno funzionari tutti i giorni del comune nei quartieri ci saranno i vigili di quartiere che sono sì presidio di sicurezza di vigilanza per la manutenzione ma non solo anche io ho messo nel programma il bilancio partecipativo 4 milioni di euro da dare ai cittadini in modo che loro in maniera trasparente partecipino e quindi segnalino le difunzioni della città rispetto alla manutenzione alle strade al decoro allo sfalcio delle erbe alla pulizia ma non solo per me importante è ripristinare un rapporto diretto con chi lavora al comune con i dipendenti comunali perché loro sono i vettori principali del rapporto tra il sindaco e i cittadini quindi credo che sia importante lavorare bene anche con i dipendenti comunali che sono come dire il braccio poi esecutivo del comune poi è importante credo far sì che ci siano rapporti chiari anche con le ditte per esempio di manutenzione far sì che la città che i cittadini si riappropriano della propria città significa anche far sì che i lavori pubblici possano finire in tempi adeguati e come dire anche aumentare le penalità in caso di ritardo ritardo dei lavori quindi una serie di strumenti bilancio partecipativo fondi rapporto con i dipendenti ma consigli di quartiere che renderanno il cittadino non solo partecipe ma costruttore insieme al sindaco grazie Sclocco Erika Alessandrini Movimento 5 Stelle Sì la partecipazione è proprio il cuore del programma del Movimento 5 Stelle siamo sempre stati un po' fissati con la questione della partecipazione del cittadino lo abbiamo già fatto quando siamo stati opposizione in città ricordo per tutti la questione dell'area di risulta e quindi delle osservazioni dei cittadini l'abbiamo fatto costruendo il programma elettorale perché abbiamo attraversato i diversi quartieri della città e insieme a tutti coloro che abbiamo incontrato abbiamo scritto il programma abbiamo segnalato le esigenze quartiere per quartiere e in particolare per quanto riguarda le opere pubbliche che abbiamo segnalato nella nostra programmazione sono 50 opere pubbliche che sono state richieste e valutate proprio quartiere per quartiere insieme ai cittadini trovandone anche le possibilità di fondi quindi accanto ad ogni opera pubblica messa in programma abbiamo anche il modo di trovare il fondo per realizzarla detto questo nel programma abbiamo diversi strumenti c'è proprio un capitolo specifico dedicato a questo in molti hanno detto del bilancio partecipativo noi lo abbiamo proposto per 5 anni in consiglio comunale il centro-sinistra ha sempre bocciato la nostra proposta quindi oggi viene a dire invece che vuole farlo abbiamo un altro strumento che è ad esempio quello del question time del cittadino anche questo proposto è bocciato purtroppo in consiglio dal centro-sinistra che quindi permette alla cittadinanza proprio ai pescaresi di poter intervenire in consiglio comunale portando una domanda diretta a un consigliere o un assessore eliminando quelle barriere che ci sono sempre diciamo rispetto alla filiera dell'interrogazione e quindi alla possibilità di controllare che cosa accade nel comune e nel percorso amministrativo di alcune pratiche ho il programma con me riforma del regolamento in materia di strumenti di partecipazione introduzione del referendum propositivo il bilancio partecipativo riduzione del numero di firme richieste per petizioni e delibere di iniziativa popolare lo strumento dell'interrogazione ve l'ho detto possibilità di richiedere un consiglio straordinario con raccolta firme è una questione straordinaria nessuno lo fa attivizione e rafforzamento delle consulte degli altri organismi di partecipazione e poi l'urbanistica partecipata quando si parla di trasformazione della città c'è bisogno di mettere il cittadino sempre al centro delle richieste e delle necessità e quello che vogliamo fare per esempio con il grande master plan che mette insieme l'area di risulta l'area dell'ex cofa l'area dell'ex Fonderia Camplone l'area del Lungo Fiume quindi un grande strumento di trasformazione e di programmazione della riqualificazione della nostra città che mette al centro le esigenze della popolazione insieme cioè ci saranno cittadini che sono residenti commercianti architetti professionisti lavoratori di ogni genere e quindi che mettano a disposizione le loro competenze le loro necessità proprio perché deve unirsi si deve fondare un rapporto di fiducia strettissimo tra l'amministrazione e coloro che invece non devono più subire le scelte che fa chi guida la città e quindi la guida politica ma la politica e i cittadini devono essere insieme in una rete di fiducia e di costruzione perché bisogna andare dalla stessa parte e non essere l'uni avversari degli altri grazie Carlo Vostantini la cosa la prima che lei farebbe io ho quattro di idee perché si rivolgono a tre mondi diversi e uno a tutto primo aspetto digitalizzazione dell'attività della pubblica amministrazione la digitalizzazione dell'attività della pubblica amministrazione è fondamentale perché assicura trasparenza l'attività del comune deve essere tutta in rete i procedimenti amministrativi devono essere gestiti in rete deve essere chiaro quando inizia un procedimento e quando finisce attraverso internet è possibile gestire le forme di partecipazione e di condivisione più innovative evidentemente una pubblica amministrazione che gestisce ancora i procedimenti amministrativi in forma cartacea è una pubblica amministrazione che non è in grado e non ha costruito i presupposti per dialogare anche in via preventiva con i cittadini mondo delle associazioni io sono convinto che con le associazioni non si debba soltanto dialogare non si debba solo consentire la loro partecipazione ma debba piuttosto pienamente applicarsi il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale dobbiamo liberare spazi in favore delle associazioni determinare un arretramento da parte dell'istituzione comunale per tutte le attività mi riferisco soprattutto alle attività che investono il sociale che il mondo associativo può svolgere meglio e con minori costi rispetto a quanto invece non possa fare la pubblica amministrazione il mondo delle imprese il mondo delle imprese deve essere un interlocutore costante in tutta l'attività di programmazione e in tutte le decisioni che investono il futuro io non riesco ad immaginare un'attività amministrativa scollegata dalla condivisione dalla partecipazione del coinvolgimento da parte del sistema economico produttivo della città mondo del lavoro bisogna implementare ne abbiamo parlato in occasione degli incontri tenuti con i sindacati bisogna pesantemente implementare la contrattazione di anticipo e la contrattazione sociale che sono due forme di contrattazione che innovano rispetto alle forme tradizionali della contrattazione ex post perché tengono conto degli straordinari cambiamenti che il mondo del lavoro sta subendo cambiamenti talmente veloci che non consentono la contrattazione sociale di intervenire se non in una fase in cui l'intervento si rivela poco efficace dialogo aperto con il mondo sindacale per sviluppare queste forme nuove di contrattazione anche quella sociale che evidentemente va oltre le problematiche del lavoro ma si occupa anche delle trasformazioni del disagio sociale che i modelli di sviluppo spesso disumani della nostra società determinano purtroppo il mondo del lavoro sta subendo dei cambiamenti davvero devastanti non ci sono più sicurezza non c'è più stabilità e quindi io penso che il sindacato debba essere coinvolto prima costantemente attraverso l'utilizzo di queste forme di contrattazione una considerazione di carattere generale e chiudo molto spesso la concertazione la partecipazione l'ascolto vengono utilizzati per non decidere allora molto spesso io potrei fare tantissimi esempi non vorrei pertanto che questa attività venga confusa o venga utilizzata strumentalmente per non decidere bisogna ascoltare tutti bisogna coinvolgere tutti bisogna assicurare la partecipazione di tutti bisogna essere trasparenti ma poi bisogna decidere il fattore tempo nella gestione del comune è diventata una variabile indifferente nel senso che non interessa più a nessuno le decisioni vanno assunte ascoltando tutti ma poi deve esserci un sindaco che carica su di sé la responsabilità della decisione grazie Stefano Civitarese grazie per noi di coalizione civica per Pescara la partecipazione è un fatto fondativo direi mentre i partiti tradizionali prima di questa campagna elettorale più o meno litigavano sui nomi da proporre come candidati sindaci i tavoli di coalizione civica per Pescara su tematiche specifiche costruivano il programma che poi è quello che adesso tutti possono trovare sul sito proprio in questo programma elaborato in questo modo c'è un titolo che voglio richiamare per un'amministrazione efficace ed efficiente trasparenza e partecipazione delle persone non si può avere partecipazione delle persone che deve essere una partecipazione strutturata e su cui noi proponiamo delle cose specifiche se non c'è un'amministrazione fatta in un modo diverso per amministrazione intendo sia la formazione del governo della città che noi già abbiamo proposto fuori delle logiche partitiche fuori di quelle strumentalizzazioni che vengono fatte dai partiti per avere i propri rappresentanti nella giunta che impediscono alla giunta stessa e al sindaco eletto per governare di governare questo consente effettivamente con un'amministrazione agile ristrutturata in dipartimenti noi abbiamo proposto solo sette per i grandi settori di sviluppo e di tutela dell'amministrazione comunale di avere una partecipazione strutturata e quindi le consulte i forum permanenti i veri e propri tavoli che replicano quello che coalizione civica ha fatto per costruire la propria identità ed il proprio programma questo quindi è un punto davvero fondamentale secondo punto che vorrei in questo momento richiamare anche qui richiamando il nostro programma è una frase che mi sembra molto importante che è l'aspetto specifico che voglio proporre nel nostro programma è scritto una cosa di questo genere proprio venuta fuori dai tavoli si chiama donne al centro se ci interroghiamo sulle donne arriviamo subito a parlare di scuola figli lavoro società minoranze quindi a parlare di tutto se ci occupiamo di tutto significa che siamo tutto e quindi dobbiamo essere al centro della vita politica noi proponiamo una casa delle donne un bilancio di genere insieme al bilancio partecipato che sono forme di partecipazione strutturata che non significa mettere a disposizione un po' di soldi per far decidere più o meno su alcune cose sulla pulizia delle strade dei cittadini significa invece con un'amministrazione forte che è in grado di decidere effettivamente una volta assunti questi metodi di partecipazione come metodi fondanti della vita politica poi però è in grado di decidere perché non è vincolata dalle reti dai lacciuoli della partitocrazia che impediscono le decisioni quindi una partecipazione che si fondi davvero sulla centralità delle donne in questo caso per esempio che ho fatto ma in generale dei cittadini e altro punto per noi che è fondamentale ne abbiamo parlato al sindacato sono gli accordi territoriali cioè le forze sociali le forze sindacali le forze del lavoro devono essere coinvolte fin dall'inizio nella scrittura dei programmi soprattutto per quanto riguarda le politiche sociali grazie Carlo Masci direttore lei ha chiesto di essere concreti e di evitare di fare filosofia su questo argomento e io lo farò le dirò quali sono i punti che immediatamente metterò in campo istituirò il consigliere di quartiere l'assessore di quartiere il dipendente di quartiere cioè tre figure che sono il governo della città il consiglio comunale e l'amministrazione che saranno sui quartieri e che intercetteranno tutti i bisogni dei cittadini in modo da essere l'orecchio dell'amministrazione all'interno della città è fondamentale il rapporto diretto perché così si crea di nuovo quel feeling tra la collettività e l'amministrazione che negli anni si è purtroppo sfilacciato più che altro proprio da parte della politica poi istituirò la consulta delle associazioni di volontariato per stimolare quel discorso di sussidiarietà orizzontale che è fondamentale per ricostruire qualsiasi rapporto di comunità associazioni di volontariato del sociale sportivo culturale che saranno l'effervescenza del territorio e che permetteranno di creare un rapporto diretto con l'amministrazione comunale con idee con progetti e con realizzazioni poi sarò il sindaco del quartiere io mi regerò periodicamente nei quartieri ad ascoltare direttamente i bisogni dei cittadini perché vorrò sentire con le mie orecchie quali sono le necessità quali sono i bisogni qual è il disagio che si prova quali sono le criticità e come possono essere superate troveremo il sistema insieme con i cittadini direttamente poi ovviamente la digitalizzazione della pubblica amministrazione è un altro elemento essenziale io ho parlato e continuo a parlare di intelligenza artificiale che è lo strumento che ci permetterà di avere un rapporto diretto col cittadino e soprattutto di semplificare la vita dei cittadini perché io immagino e sogno un operatore virtuale che dialoghi direttamente con le imprese per esempio che oggi hanno un rapporto difficilissimo con la pubblica amministrazione e quando un'impresa ha un rapporto difficile con la pubblica amministrazione non riesce a creare economia di cui Pescara ha un bisogno essenziale per fare in modo che i nostri giovani trovino opportunità di lavoro che oggi manca e sono costretti quindi ad andare fuori per avere le loro opportunità poi avrò un rapporto diretto con le scuole e con i centri sociali che sono due altri elementi territoriali fondamentali perché i centri sociali raccolgono le persone anziane che in un'ottica di cittadinanza attiva sviluppano le loro idee i loro pensieri e quindi sarò direttamente in contatto con i centri sociali che svolgono una funzione fondamentale e con le scuole perché le scuole ovviamente permettono ai nostri ragazzi ai nostri giovani ai nostri bambini di crescere e non succederà più per esempio che si abbia il problema delle menze a Pescara che è stato drammatico perché c'è stato un sfilacciamento totale tra la pubblica amministrazione e la comunità scolastica bene grazie Masci ora ci fermiamo per l'ultima pausa tra poco chiuderemo davvero la campagna elettorale con gli ultimi appelli nell'ultimo round dei nostri ospiti candidati alla carica di sindaco e poi cercheremo di chiudere anche con una cosa un po' spiritosa ma subito dopo la pubblicità torneremo in studio a tra poco bene siamo in studio alla mezzanotte si chiude la campagna elettorale come tradizione gli ultimi appelli da parte dei candidati sindaci di Pescara ricordiamo che questa è una competizione elettorale tra le liste per il nuovo consiglio comunale ma anche tra i candidati sindaci quindi è possibile anche chiedere il voto ai elettori che non appartengono alla propria coalizione oltre che naturalmente agli incerti perché è possibile appunto il voto disgiunto allora l'appello diretto occhi negli occhi del cittadino del telespettatore perché votarmi come sindaco di Pescara Gianluca Baldini direttore io ho detto ho ripetuto più volte che abbiamo iniziato una lunghissima campagna elettorale perché ho iniziato l'11 febbraio di quest'anno perché avevo necessità di farmi conoscere sono un esordiente della politica ho 37 anni e quindi era necessario intanto far conoscere la mia persona sono andato in giro per Pescara con un volantino che si intitolava Chi è Cussù di Chisulufì in cui mi presentavo e dicevo chi ero da dove venivo e qual era il partito che rappresentavo che è un partito che si pone un obiettivo ambizioso che è quello di rimettere al centro la Costituzione quello che ho fatto nelle settimane successive è girare la città con una bicicletta che trainava un carretto sul quale ho imbastito dei comizi volanti in cui parlavo di problemi sia dei problemi inerenti alla città sia di problemi nazionali e sovranazionali perché noi siamo un partito che critica fortemente la costruzione europea e quindi ci siamo fatti conoscere abbastanza nella mia narrazione ho detto che a mio avviso negli ultimi anni nella città gli amministratori non si sono occupati del necessario e spesso si sono occupati del superfluo e per me il necessario era il minimo decoro urbano io spesso ho sentito ripetere dagli altri competitor dagli altri candidati sindaco degli obiettivi molto ambiziosi come trasformare la città in New York far volare i droni per controllare la città insomma mi sembravano cose molto diciamo molto ardite tant'è vero che io in questi giorni scherzosamente dicevo vabbè io farò tornare Galeone darò cinque anni di sole e renderò la città per sempre più bella però al di là di queste false promesse io quello che prometto è che se metterete una croce sul simbolo di conquistare l'Italia e sul mio nome quello che posso assicurare è che ci occuperemo di quelle cose di quei provvedimenti necessari innanzitutto partendo dal rimettere a posto le strade il verde pubblico il minimo decoro urbano che è quello di cui ha bisogno realmente la città e l'unica grande infrastruttura di cui avrebbe bisogno è la ristrutturazione dei sottoservizi idraulici cioè la separazione delle fognature dalle acque meteoriche dalle acque piovane perché ogni volta che piove il nostro male diventa non balneabile partiamo da lì da queste cose essenziali poi si va avanti procedendo passo dopo passo per costruire qualcosa di nuovo io quello in cui credo in una città che non ingigantisca i propri confini ma che resti piccola a misura d'uomo come la pescara che abbiamo sempre amato tutti e che hanno amato le persone che si sono trasferite in questa città grazie Baldini Mirko Iacomelli Sindaco io sinceramente non aspiro a fare il sindaco sicuramente chi vota me voterà per me e per Casa Pound perché rappresento Casa Pound quindi il voto è un voto veramente utile perché è un voto veramente rivoluzionario chiaramente noi come recita anche il nostro volantino siamo senza compromessi per difendere Pescara quindi è semplice la cosa se andiamo in giro e chiunque può andare in giro vede quello quell'altro che prima era candidato con un partito che poi è stato in un partito poi è passato a un altro oppure quell'altro dell'altro partito che poi è ripassato in un altro partito eccetera eccetera è sempre la stessa solfa sono sempre le stesse persone chi ci ha governato abbiamo visto i risultati una città che è in predissesto totale perché chiaramente sta in predissesto e mancano soldi quello che si deve assolutamente fare di cui Pescara ha bisogno è una sicurezza quindi Pescara deve avere più sicurezza e per averla deve concentrarsi su determinate tematiche in più quello che chiediamo è la priorità verso i cittadini italiani di Pescara e quello che in pratica in sostanza abbiamo nel programma abbiamo nel programma è l'acquisto del comune di Pescara di una draga Pescara si deve dotare di una draga per risolvere i problemi del fiume successivamente ci sono anche altre operazioni sul traffico riaprire Corso Vittorio Emanuele siamo contrari anche a un grande parco vicino nei pressi dell'area di risulta perché comunque dal nostro punto di vista porterebbe il commercio pescarese alla rovina totale perché comunque se le macchine non possono parcheggiare perché non ci sono parcheggi automaticamente i turisti o non solo anche chi viene dall'entroterra non verrà più a Pescara ma si regherà nei centri commerciali non costruire centri commerciali a Pescara e fare un discorso prettamente incentrato anche sul discorso parcheggi e per quanto riguarda strade e parcheggi siamo assolutamente contrari a un'eventuale privatizzazione oppure a un affidamento a privati questa è una cosa sostanziale è importantissima quindi risolvere il fiume risolvere i problemi che Pescara veramente ha quindi di conseguenza anche il turismo i collegamenti con i turisti e con l'altra parte dell'Adriatico e non solo anche con un discorso di aeroporto e quindi fare tutto questo si può fare bene grazie Gianni Teodoro chiedo a voi concittadini di votarmi di eleggermi sindaco per continuare ad esprimere questo forte sentimento questo amore che provo per questa città ormai da 25 anni nella pubblica amministrazione con onore senza essere mai stato sfiorato da niente e da nulla mi sono battuto perché le classi più deboli fossero state considerate al pari di chi non aveva bisogno né di nulla ma certamente meno dell'amministrazione e allora è comunale e allora io vi dico che il mio impegno è un impegno diretto verso le persone più bisognose quelle che sono gli ultimi quelli che sono lasciati indietro io su questo mi batterò e continuerò a battermi affinché Pescara abbia una città equilibrata anche sotto questo attetto certamente non è facile è difficile ma troverò le risorse il modo e quant'altro necessario perché questo possa avvenire certo non sarà una passeggiata per il sindaco che verrà ci sono mille problemi li avete ascoltati in questa lunghissima campagna elettorale però con l'amore che ho detto prima che mi contraddistingue e con la mia determinazione e consentitemi con la mia onestà mi batterò affinché questa città torni ad avere il suo vero splendore e domani quando saremo tutti guardandoci negli occhi convinti di questo grande progetto io credo che tornerà il sorriso quello vero sulle labbra dei pescaresi cari concittadini non ascoltate coloro che fanno gli slogan usano mezzi per propagandare una città che sia quasi futuristica o lunare addirittura ma state invece ai fatti cioè quelli come me gente che si è impegnata che ci ha messo la faccia e che ha risolto i problemi veri della città come ho sempre detto quel modello Teodoro che ha cambiato un intero quartiere che oggi grazie al cielo è un quartiere integrato con il resto della città questo lo voglio fare per tutta la città per tutte le altre parti per tutti i luoghi compreso anche il centro e ridare attraverso un servizio di vigilanza curata curata e accurata nei suoi dettagli un servizio di vigilanza legato anche ad un progetto di videosorveglianza che sarà l'occhio elettronico l'amico che ti guarderà e che ti difenderà anche dagli attacchi ingiusti di chi ha cattivi pensieri allora per queste ragioni votatemi rendetemi datemi questa possibilità e questo onore di diventare sindaco di Pescara e io Pescara la cambierò grazie Marinella Sclocco ho la competenza l'entusiasmo la forza di essere la guida di questa città mi piacerebbe far sì che i pescaresi possano ritornare ad essere fieri di una città che cresce di una città che diventa punto di riferimento non solo per la nostra regione ma per tutta un'area più vasta dell'Italia centrale una città che possa ricominciare a toccare con un dito anche l'altro lato dell'Adriatico una città che possa continuare che possa diventare competitiva sul piano del turismo sul piano dei servizi sul piano della qualità della vita mi candido a sindaco sperando di poter far sì che i cittadini possano affidarsi di nuovo nelle mani di chi vuole bene a questa città ci sono grandi partite da giocare c'è la partita dell'area di risulta c'è la partita del mare c'è la partita dell'ex cofa c'è la partita però quella quotidiana della manutenzione della città tutti vogliono una città più pulita una città sicura una città bella manutenuta io in questa campagna elettorale ma nella vita non ho mai tolto le scarpe da tennis mi piace stare tra la gente mi piace confrontarmi con la gente mi piace guardare le persone occhi negli occhi e sono certa che sarò un bravo sindaco per questa città come ho detto prima mi piacerebbe far sì che i cittadini possano schierarsi dalla mia parte per potersi sentire davvero cittadini di una città bellissima persone abitanti di una città bellissima guardate l'alternativa a me al centro-sinistra è votare due facce della stessa medaglia una medaglia che è quella di una faccia che è quella del centro-destra che ha lasciato i debiti 70 milioni di euro al comune di Pescara e l'altra faccia è quella dei 5 Stelle i 5 Stelle dicono di non fare alleanza ma poi vanno a braccetto con Salvini votandone l'immunità e distruggendo davanti agli occhi di tutto il mondo una città come Roma Pescara non può fare la fine di Roma Pescara deve essere governata da chi ha competenze da chi ha voglia e soprattutto da chi la conosce grazie grazie ora Erika Alessandrini abbiamo visto Pescara come è diventata negli ultimi 5 anni nelle mani del centro-sinistra quindi abbiamo tutti il polso per verificare la loro incapacità di governo il loro immobilismo e la loro non professionalità purtroppo vittime anche loro delle grandi coalizioni perché fanno partiti con centinaia di candidati in cui poi alla fine entrano sempre gli stessi che sono coloro che occupano i banchi del Consiglio Comunale da più di 30 anni continuano a riproporsi continuano in campagna elettorale a fare promesse che poi puntualmente non mantengono è ora di dire basta alle chiacchiere alle chiacchiere che vengono da sinistra e da destra dove a 192 candidati di cui probabilmente il candidato sindaco non conosce nemmeno i nomi non entrerà nessuno di quelli non entrerà nessuno delle persone che si sono messe a disposizione per loro perché entreranno sempre i soliti 20 consiglieri comunali che da sempre occupano quei banchi e che fanno solo promesse senza poi attuare niente di tutto quello che dicono il Movimento 5 Stelle su questo invece è rivoluzionario siamo 32 un'unica lista con le mani libere non dobbiamo restituire niente a nessuno siamo liberi di occuparci soltanto dei cittadini perché non abbiamo restituzioni da fare e quello che sappiamo è che abbiamo competenza abbiamo passione abbiamo amore per la nostra città presenteremo se andremo al ballottaggio la giunta la presenteremo prima sarà fatta da professionisti da persone di estrema competenza che finalmente potranno cambiare il volto della nostra città perché sanno quello che fanno basta con i frittimisti in cui abbiamo l'ortopedico che fa l'assessore ai lavori pubblici o l'insegnante di greco al bilancio c'è bisogno finalmente di qualcuno che sappia dove andare abbiamo una visione chiarissima della nostra città abbiamo le competenze per poterlo fare e vogliamo rendere Pescara finalmente al passo con i propri tempi dobbiamo essere con i nostri tempi dobbiamo essere orgogliosi di vivere nella nostra città dobbiamo dare ai cittadini l'opportunità di vivere e di lavorare serenamente perché oggi il comune è ancora chi ti mette i bastoni tra le ruote e invece c'è bisogno che il comune sia amico il comune è la casa di tutti noi è il posto in cui dobbiamo sentirci a nostro agio in cui dobbiamo sempre sapere con chi poter parlare dove andare perché la comunità si crea con l'amministrazione con le competenze con la cittadinanza con l'apertura delle nostre porte quindi è il caso di cambiare perché le stesse strade portano sempre dalla stessa parte e ora invece di dare un cambiamento netto un segnale forte di cambiamento che si può avere soltanto con il Movimento 5 Stelle tutto il resto è la solita storia grazie Carlo Costantini perché votare Carlo Costantini sindaco io nel 2011 ho progettato e ideato il processo di fusione di Pescara Montesilvano e Spoltore nei tre anni successivi in collaborazione con un ricercatore dell'Università di Annunzio e di pochi altri imprenditori illuminati tra i quali ricordo Daniele Becci ho elaborato lo studio di fattibilità che ci ha condotto al referendum del 2014 poco prima del referendum ho fondato il comitato promotore per il referendum ho aperto il comitato e ho sostenuto una campagna elettorale che si è conclusa con un risultato trionfale poi ho contribuito alla costituzione dell'associazione Nuova Pescara l'associazione che ha pungolato e stimolato l'attività legislativa del Consiglio regionale che ha concluso l'iter di approvazione della legge nel 2018 e ci consente oggi di affermare che queste saranno le ultime elezioni del sindaco di Pescara dopo questo percorso mi candido al sindaco di Pescara per portare a termine un progetto che mi appartiene che è parte integrante di me ritengo di avere una particolare straordinaria competenza avendo già fatto il sindaco di San Giovanni Tatino essendo stato due volte consigliere regionale presidente della commissione di vigilanza della regione Abruzzo vicepresidente della commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione membro del comitato per la legislazione della camera dei deputati e tante altre cose ancora ma non è un'esperienza solo politica io ho anche una straordinaria esperienza professionale perché da 30 anni come avvocato mi occupo di problemi della pubblica amministrazione servendo e prestando consulenza in favore di decine di comuni ho tutto quindi per entrare in comune e risolvere i problemi dal giorno dopo e do anche la libertà di poter decidere perché non basta avere competenze ed esperienza occorre anche essere liberi ed autonomi non essere condizionati ed avere una maggioranza che in consiglio comunale ti consentirà di portare avanti il tuo programma di governo oggi purtroppo questi aspetti non esistono le coalizioni formate da partiti perché sappiamo perfettamente che il giorno dopo i partiti inizieranno con i ricatti il giorno dopo cominceranno le difficoltà per formare la giunta il giorno dopo arriveranno le cambiali da pagare questo è peggio di un sindaco debole un sindaco deve essere forte ma deve avere soprattutto l'autorevolezza l'esperienza e la determinazione per poter governare i processi che molto spesso portano allo sbando le maggioranze abbiamo esperienze in Abruzzo recentissime penso al caso dell'Aquila nel quale un sindaco di centrodestra è già stato costretto a dimettersi forse una o due volte per problemi che non hanno nulla a che vedere con le difficoltà dei cittadini esperienza e competenza ma anche governo della propria maggioranza ed autorevolezza nei confronti del consiglio comunale Stefano Civitarese sì coalizione civica è nata proprio per offrire davvero un'alternativa alla politica che abbiamo vissuto in questi ultimi 10, 20 o anche più anni è un'esperienza che tra l'altro si ripete in altre città cioè la speranza che possa esserci un modo diverso di fare politica che si basi sulla passione e l'impegno delle persone che parta dal basso ma che poi costruisca una formula di governo basata sulla competenza sulla professionalità su una visione strategica della città che noi abbiamo esiste già in altre realtà proprio ieri abbiamo fatto una bellissima la prima rete nazionale delle coalizioni civiche con Padova Bologna Ferrara Padova coalizione civica è al governo e stanno portando concretamente avanti l'idea di città che noi stessi abbiamo cioè una città che si basi sulla una vera e propria rivoluzione ambientale che oggi è il vero problema il dramma che affrontano le società contemporanee e le città se non ripartiamo dalle città per costruire davvero una mobilità sostenibile che è al centro del nostro programma che è una grande occasione di sviluppo anche del commercio e del turismo se non pensiamo a una rete verde per la nostra città un piano regolatore del verde che sia un'infrastruttura fondamentale per la vivibilità della nostra città e se per fare questo occorre un'amministrazione che abbia il coraggio di farlo che sia al di fuori delle logiche dei partiti che appunto costringono invece le scelte secondo soluzioni che non sono affatto conformi all'interesse pubblico queste cose non si possono fare noi abbiamo un'idea da qui al 2027 come recita un programma strategico che da assessore ho fatto approvare al Consiglio Comunale che poi il Consiglio Comunale la maggioranza uscente non ha di fatto voluto seguire quel programma strategico che guarda una pescara che sia inclusiva solidale ma anche che si sviluppi grazie all'innovazione e all'economia della conoscenza è il programma che porteremo avanti se ci darete la vostra fiducia io personalmente ho sempre vissuto una vita da studioso ma anche di attento osservatore delle istituzioni anche coinvolto nelle istituzioni pubbliche come consulente quindi ho certamente la competenza ma anche la passione per rappresentare questi obiettivi e anche la nostra squadra è fatta così gli altri lo dicono noi lo abbiamo già fatto abbiamo già nominato la Giunta che è pronta a lavorare il giorno dopo delle elezioni grazie Carlo Masci Pescara dopo i cinque anni più bui della sua storia ha bisogno di un sindaco competente autorevole forte che possa prendere decisioni senza timore con autonomia di pensiero e intellettuale ha bisogno di un sindaco che sia assolutamente a conoscenza dei problemi della città e sappia anche come risolverli ha bisogno di un sindaco che abbia una grande esperienza ha bisogno di un sindaco che possa pronunciare le due parole trasparenza e onestà senza che siano due nuvole sospese per aria ma riempiendoli di contenuti e io posso farlo perché ho amministrato centinaia di milioni di euro ai tempi della Giunta Pace e miliardi di euro in regione con chiodi senza che mai nessuno abbia mai potuto contestare un mio atto amministrativo o una mia azione politica Pescara non vede l'ora di liberarsi della Giunta Alessandrini di cui già si sono liberati molti consiglieri e quindi non si farà mai rappresentare da chi oggi è ancora in Giunta con Alessandrini o lo è stato si è già liberato dalla Giunta D'Alfonso in regione e quindi non si potrà far rappresentare da chi è stato in Giunta con D'Alfonso fino a qualche giorno fa e sicuramente non si farà rappresentare da quella sinistra giustizialista che è passata dal PD all'Italia dei Valori a Ingroia e che oggi si presenta come civica così come non si potrà far rappresentare dai 5 Stelle perché non ha intenzione di fare un salto nel buio come hanno fatto a Roma o in altre città d'Italia perché i 5 Stelle parlano di competenza ma poi vediamo il governo da chi si fanno rappresentare Pescara ha bisogno di solide certezze quindi ha bisogno di un sindaco come Carlo Masci e ha bisogno di un'ampia coalizione come quella di centrodestra che ha idee chiarissime e sa come attuarle per far sì che Pescara possa tornare ad essere una città attrattiva una città dinamica una città effervescente una città solidale una città inclusiva una città intelligente la vera capitale dell'Adriatico grazie Masci allora visto che peraltro siete stati anche molto nei termini di tempo che avevate per l'appello io ne voglio approfittare per chiudere un po' anche rilassandoci un po' per sdrammatizzare questa lunga credo estenuante per voi campagna elettorale che si chiude alla mezzanotte con un piccolo divertismo in qualche modo si vota per Pescara vi ho detto prima di guardare in camera di parlare ai pescaresi adesso vi dico proprio di parlare in pescarese con lo slang pescarese per un ultimo rapidissimo appello uno slogan un pensiero una cosa che vi viene in mente parlando ai pescaresi in chiusura della campagna elettorale però in pescarese iniziamo questo gioco in qualche modo da Baldini sì direttore io siccome sono l'unico che si oppone a questo progetto di fusione quindi il mio slogan lo voglio dedicare a questo perché probabilmente verosimilmente Pescara dovrà cambiare nome quindi io quello che voglio dire per difendere la nostra identità è se volete una Pescara più fregna votate Gianluca Baldini riconquistare e riconquistare l'Italia perché Pescara è pescara e nus e menù allora Iacomelli ma fino a mo' sanno i magneti tutti a sto punto provate a votare per la tartaruga frecciata a cui ci vediamo un po' se cagni le cose Teodoro ho sentito tutti che si propongono come il miglior sindaco allora dico sono sentito a parlare questi che vogliono fare i sindaci tutti qui io vi dico una cosa a me gli devo dormire sclocco io ho a casa uno dei pescaresi più pescaresi che conosca che è mio marito allora parlete parlete ma vedilo finito Erika Alessandri allora e quindi è ora che Pescara torni finalmente a sorridere a sognare ad essere felice ad essere contenta dovremmo essere felici di vivere nella nostra città e questo è quello che voglio augurarci Costantini a me mi viene in mente cine cacine ma cacine in tutto no che tradotto vuol dire va bene tutto ma che adesso chi sta in consiglio comunale da 30 anni possa parlare del futuro e interpretare il bisogno di cambiamento mi sembra veramente un'esagerazione Stefano Civitarese sì abbiamo parlato molto in questa campagna elettorale del mare allora volevo dire una cosa sul mare anche perché mia moglie che mi ha accompagnato costantemente in questa campagna elettorale viene proprio da quell'area lei è proprio di famiglia di marinai tradizionale e quindi direi l'acqua va all'umare ma l'ha avuto tutto a nu poi siccome siccome poi si è parlato della bandiera blu direi anche ridetici le cannilicchi Carlo Masi va bene mi ha rubato lo slogan nel senso che anch'io volevo parlare di mare perché ho basato tutta la mia campagna elettorale sul mare e io volevo dire semifisind tarding le cannilicchi benissimo grazie complimenti a tutti anche per lo spirito che avete dimostrato è anche un po' segno di questa bella campagna elettorale che comunque è stata molto corretta è stata l'insegna del fair play e anche della qualità umana dei protagonisti che però si chiude a mezzanotte quindi prima di salutarci vi ricordo per quel che riguarda Rete 8 gli appuntamenti con i quali seguiremo anche le loro sorti quindi il voto che ricordiamo in programma dalle 7 alle 23 di domenica per nell'unico election day per le comunali oltre che per le europee allora in Abruzzo si vota per 99 comuni si vota per le europee cosa faremo noi alle 22.45 proprio mentre finirà la partita del Pescara anche qui incrociamo le dita e ovviamente siamo scaramantici quindi non diciamo niente ci collegheremo su Rete 8 sul canale 10 mentre sul canale 11 avremo tutta la parte sportiva con alcuni amici giornalisti soprattutto con i quali commenteremo un po' questa campagna elettorale e anche i primi exit poll delle europee poi loro invece li chiameremo in causa il lunedì perché lo spoglio c'è il lunedì a partire dalle ore 14 saremo nei loro comitati elettorali saremo qui nei nostri studi in una lunga diretta che ci accompagnerà fino alla mezzanotte per conoscere chi sarà il nuovo sindaco di Pescara oppure chi andrà al ballottaggio la stessa cosa a Montesivano Giulianova comunque in 99 comuni abruzzesi dove si vota domenica sempre in diretta con Rete 8 con la collaborazione del centro con i risultati in tempo reale e con la voce anche dei cittadini live per una lunga diretta che ripeto ci accompagnerà fino alla mezzanotte di lunedì grazie ancora e in bocca al lupo per il voto ai candidati e naturalmente soprattutto agli elettori arrivederci a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.